Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! No! 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 LOL Ragazzi il drago elettrico è corretto prima del drago inferno? Ciao! Ragazzi il drago elettrico è corretto prima del drago inferno? Io chiedo eh! Devo attaccare oramai C'è un pump, qua c'è un pump LOL Forza, forza, forza! Grazie Pinguz! L'hanno già acquistata in otto! LOL Ok Ok Allora... Here comes the money! Money, 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 money Gialla, gialla, yo! Gialla, gialla! Cin, cin, blin, blin! So che gialla! Mi scusi David! Mi scusi David! Rimettimi ti prego! Ok, questa è colpa mia! No, no ragazzi, no, 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 aspetta! Però non mi faceva uscire dallo squalo, raga Ma non mi voleva fare uscire... No, però non mi ha fatto uscire dallo squalo, raga Dai, è colpa mia fino a un certo punto, dai Ho fatto il coglione Ho fatto il coglione... Però volevo andare sotto le build Poi non mi faceva più uscire dallo squalo, figa! Ok? No, togli questo pompa blu Io vado con la pistola Adesso me lo devi sostituire Non funziona, è una merda Per quando gli vuoi bene lo vizi Eh sì, purtroppo sì Io gli do da mangiare la tartare Minchia per i gatti fanno vera... A me mi fa incazzare, santo Dio, vedere le pubblicità dei gatti Che li mettono lì, figa, con il bavaglino Con la... Allora, porco Dio! C'è la gente che muore di fame E mi fai vedere il gatto che mangia col bavaglino Che porco Dio! Ti prendo la pappa e te la spacco in faccia, figa! No, dai! La pappa e gliela spacco in faccia, figa! Quello che fa la pubblicità, cazzo! Collect parenting books Da Holly Hatchery O Retail Row O Retail Row Quindi bisogna collezionare dei libri Da Retail Row, che è corso commercio E Holly Hatchery che non mi ricordo sinceramente Aggiornamento 1,96 Tapaz Aggiornamento 1,96 Ciao best player Spike Ciao bello, ciao bello Hatchery e vivaio Ah, il vivaio delle se... Ho capito! Ho capito! Ho capito! No, potevo ucciderlo con le granate Da dove è che parte il percorso? Oh, non vabbè! Ho capito! Ho capito! Ho capito! No, potevo... Non vabbè! E perché non me l'hai detto lunedì oggi? A tutti lunedì ce l'ho solo che scappo Oh mi sto rotta a cazzo non faccio niente E non fare un cazzo cosa devo dirti? Dio No amore al contrario E alle 17.30 Porco porco il cazzo Porco il cazzo porco il cazzo Mi dico che cazzo fai? Mi dico sei un pazzo sai Ma certo che Ficco Mitico in una partita Così te l'ho cantato Ma mi scusi ma lei mi è entrato Ma lei mi è entrato a gamba tesa Sua caviglia mentre Cioè non Come state spero bene A parte questo caldo allucinante Che porca puttana Se questo caldo allucinante alieni probabilmente il bioma alieno inteso come il quadrato no quello che c'è tipo avivaio verdeggiante ciao aleddi lol 4 mesi ciao no per favore per favore perché perché allora poi danza con un parassista alieno ve l'ho detto ragazzi qui si arriva con questo deck sui 6 e 2 e poi è troppo complicazione ma io queste ve ne vinco ve ne vinco tre di fila ho già perso andiamo